Non può essere un semplice comunicato stampa a risolvere ogni problematica sino ad oggi presente. Potrebbe essere questo il pensiero fittiano alla luce delle novità che giungono da Arcore, o per meglio dire da Villa Certosa, dove Berlusconi sta terminando le vacanze pasquali. Nella riunione di ieri sera tra il coordinatore regionale di Forza Italia, Luigi Vitali, e i consiglieri che non hanno abbandonato la barca berlusconiana, un dibattito teso che ha portato alla soluzione e alla riunificazione dell'intero centro-destra. Presenti Friolo, Marmo, Lo Spinuso, Gatta, Scianaro e Aloisi. Tutti pronti alla battaglia, ma nessuno convinto che la corsa solitaria potesse far scattare più di uno o due seggi. Pronti alla battaglia, ma anche a non ricandidarsi e voler sentire l'ex cavaliere. In diretta e dal viva voce del cellulare dell'onorevole Vitali, Berlusconi fa sue le preoccupazioni degli uscenti rimasti gli fedeli ed apre la lista di Forza Italia a tutti coloro che in questi cinque anni sono stati espressione di Forza Italia nel Consiglio regionale pugliese. Di questa mattina l'ufficialità, attraverso un comunicato stampa del coordinatore pugliese, a seguito dell'incontro tenuto ieri in accordo con il presidente Berlusconi per favorire l'unità del centro-destra, Forza Italia conferma la disponibilità a ricandidare l'intero gruppo regionale, sgomberando il campo da tutte le polemiche, sostenendo la candidatura del professor Francesco Schittulli. Dal gruppo dei ricostruttori la notizia è appresa con soddisfazione, ma si attende un incontro tra Fitto e Berlusconi, convinti che non si può abbonificare l'aria con un semplice comunicato stampa, essendo ancora sospese altre realtà chiamate al voto. Come dire, dopo le posizioni della senatrice Rossi, attendiamo un chiarimento non tralasciando la Campania, il Veneto e tutte le regioni in cui si rinnoveranno i consigli regionali.